Ciao sono Paolo Bacci e vi presento questo Autoroll 295 Special Edition un mansardato per comodissime 4 persone ma anche 6 cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la nostra scheda del sito dove ci saranno dimensioni, optional compresi, chilometri e tanto altro ora andiamo a vedere il camper, l'abitabilità del camper andiamo a vedere qua c'è un bel garage, questo sotto sono le dimensioni guardate veramente enorme e poi andiamo al suo interno, una bella mansarda guardate che bella finestratura sia a sinistra che sulla destra un bel matrimoniale per due persone, poi all'occorrenza si alza per poter meglio accedere sulla parte cabina poi enormi pensili, guardate che sono grandi, 1, 2 e 3 sulla parte sinistra un enorme armadio, guardate com'è veramente pazioso e qua un altro piccolo contenitore poi qua il letto, la dinette con un enorme tavolo e la possibilità di fare un grande matrimoniale quindi due posti in mansarda, due qui e due nel letto matrimoniale questa è la seduta bella finestra e oblo il blocco cucina, tre fuochi, lavello due grandi contenitori pensili sportelli sotto la cucina con la cassettiera e tutti questi contenitori poi frigorifero con congelatore l'accesso al garage tramite questo sportello quindi vedete come ci si va anche facilmente a prendere le cose oppure si prende velocemente dall'interno un bel matrimoniale con la finestra, il lato destro e l'oblo e vari contenitori sulla parte posteriore poi il bagno qui il water finestra bel lavandino e poi la doccia la doccia con il funghetto in alto poi vedete che mi muovo bene sia come un adulto da solo oppure è anche facile poter aiutare un bambino a lavarsi perché può stare qui e quindi lavarlo facilmente senza bagnare niente quindi se volete un camper con un grandissimo garage una bella abitabilità questo è il camper ideale ben fatto, ben tenuto venite a trovarci o chiamateci perché la nostra consulenza vi potrà aiutare ad acquistare il camper per la vostra famiglia e soprattutto per le vostre vacanze questo è un camper che è ottimo per quanto riguarda lo sport motociclette surf e tanto altro come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambacci ciao